Il mio nome è Alicia, sono dell'esercito di liberazione di Lucano e voi dovete essere Alan e Wesley del BSSE Sei venuta qui da sola? Devi essere impazzita Mio fratello, cioè i nostri uomini, sono stati catturati dall'esercito di Zagorias mentre erano in missione per distruggere i missili tattici Capisco, quindi gli zagoriani si servono degli ostaggi per costringere la resistenza ad arrendersi, è giusto? Esatto, ma questo non succederà mai E così sei arrivata da sola fin qui per salvare tuo fratello I missili tattici sono nascosti in un centro militare situato esattamente in cima a questa montagna L'unico modo per arrivarci è servirsi della ferrovia Viene utilizzata per il trasporto dei viveri e si trova dall'altra parte della città Bene, dividiamoci, ci vediamo alla stazione ferroviaria Il treno parte alle 15 in punto, non fate tardi Grazie a tutti c'è un geocamma Gala pot pledg, diceismus 1. 2. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 14. Azione! 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 Perfetto! Azione! 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 Grazie per la visione!